Ciao a tutti, eccoci pronti per l'assaggio di questa pasta e patate alla napoletana, soltanto con cipolla, patate, un rametto di rosmarino, sedano, la scorza o buccia di parmigiano e adesso una grattatina di parmigiano ci sta, mi raccomando questa scorza conservatela per la prossima volta e ovviamente ci sta una smacina da rivela. Bene, ora siamo pronti per l'assaggio. E' buonissima, fatela anche voi, commentate e iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, mettete tanti like. Ciao a tutti e che bello di caffè. Esquisita!